Allora io non capisco dove lo devo prendere di preciso Ngu***** Vabbè questo l'ho capito No scusa perchè hai fatto il timer? Eh si Ma l'ho fatto bene mi hai salvato da questo proprio E giustamente ma ci riesco ma l'an***** No nemmeno Che palle Ma l'an***** Ho fatto prefire bastardo Mantelo L'all Ma che non ce la fa Non ce la fa Ha 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 a Peppe! Peppe ti andavano il n***o di p***a! Alle p***e! Chi deve venire? Si può venire la latrina qua! Si può venire la minmerd! Si! Si non minmerd! Ma io lo bannate per favore dalla lobby! Porco! Dov'è il traguardo? Eh! 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 Si! Affanmo! E' arrivati! Peppe! Ti odio! Nooo! F***! Sì! Peppe! Sono a 25 minuti! Non è arrivato! Oh! Oddio! Che cosa hai di precisione estrema? Mi nervosiscono tantissimo! Mi altera il sistema nervoso! E' una cosa di dover rilassarmi! Sì, fra! E ti portano drittori! Sì, f***! Oh! Mamma! Ma questo si puccava di cara adesso! L'hai visto? L'hai visto? Ma io! Ma io! Ma io! Ma io ce l'ho dietro! 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 è buono è buono non vi uccidete vogliate non vi uccide voglio via ottimo pezzi che vogliono Oddio! Oddio! Oddio corri! Oddio corri! Via 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 via! Primo! Datemi lasciare, datemi lasciare! Via! 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 Levati! Oddio levati! Oddio! Oddio sono pulato! Via 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 via! Via 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 via. ah ma non c'è un checkpoint eh vabbè ma vai camminiamo in sincro